La tua esperienza di climber entra nelle pagine dei tuoi libri e come ne fa diversi. Io sono nato a Napoli e l'unica montagna che c'è a Napoli è un vulcano. Uno di quei monumenti della natura che il genere umano preferisce evitare. Invece il mio popolo napoletano si è andato a sistemare proprio sotto un vulcano catastrofico e sopra un suoro sismico. Dunque diciamo che il napoletano è un residente di azzardo. Questo ha permesso a noi napoletani presidenti di azzardo di andarsi a avere dimestichezza anche con altre specie di azzardi in giro per il mondo, dall'immigrazione in poi, dall'immigrazione fino all'alpinismo. Io sono nato a Napoli, una città che è locata da un vulcano. L'unica montagna di azzardo è Mount Vesuvius, un vulcano. È un monumento di natura che, normalmente, gli uomini preferono evitare. Ma i miei cittadini hanno deciso di stabilire a un vulcano e in un'erth-prone area. Quindi, le napoletans, possiamo dire, sono un residente di rischio. E, così, ci siamo piaciuti anche con altri rischi di vita, come l'immigrazione o l'immigrazione.